Scusi qua, scendiamo un po'. Dai alzati Claudia. Scusi qua, salutate. Ragazzi, noi stiamo scendendo tutti i vestiti. Ti vedo, ti vedo già. Mettiti davanti a me. C'è qua, così. Dai, andiamo, scendiamo. Sì, sì. Scendiamo. Scusi. 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 Andiamo a prendere la macchina. Scusi. 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 Arrivati a casa Vai, apri Adri Sì Entrate Chiudete la porta? Senti, quando è scivolo Verso 7 giù Tietro 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 Pietro U12 Loro Grazie a tutti. 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 Buongiorno. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Torno. Olio. E' un filo. E' un filo. Ecco qua. Il riso. E' un po'. E' un filo. E' un filo. E' un filo. E' un filo. E un filo. E' 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 un filo.